Intanto per ricordare 30 anni dalla chiusura e dell'abbattimento del muro di Berlino, ma principalmente per ricordare i 130 muri che sono stati costruiti dall'89 ad oggi. E quindi questo è il nostro primo pensiero. È chiaro che tutto il mondo festeggerà questa giornata e io ho pensato di promuovere questa iniziativa. Il muro di Berlino, 30 anni dopo la storica caduta che ha tracciato un segno indelebile nella storia europea. Nella cappella palatina del maschio angioino apre una mostra dedicata alle immagini di frammenti di muro e di persone, il cui senso è ancora più significativo se si riflette sulle aspettative dell'epoca e sulla realtà che viviamo oggi. Gran parte di quella speranza purtroppo è andata delusa. Ci avevano parlato di un mondo che sarebbe progredito con la morte delle ideologie e che siano morte le ideologie, alcune ideologie è stato un bene, ma purtroppo nel mondo se ne è affermato un'altra. È una terrificante nuova ideologia, quella del neoliberismo, che ha accentuato e complicato e reso ancora più tragico il mondo nel quale viviamo. Io penso che quindi bisogna fare in modo che questi nuovi giovani che si affacciano, in particolare quelli sensibili al tema del disastro ambientale che l'ordoliberismo sta consumando, si riappropriano di una grande utopia e di una grande speranza, quella del governo mondiale e che soprattutto si ricostruiscano quei valori che avevano portato ad alcune delle più grandi conquiste della civilizzazione umana, come per esempio, secondo me, le due più belle parole del Novecento, stato sociale. E quindi il muro che è caduto ci aiuti oggi a costruire i pensieri, le emozioni e i sentimenti per riabbattere i tanti muri che questa nefasta nuova ideologia totalizzante ha affermato nel corso di questi decenni.